Buonasera, io non so che numero devo fare stasera, però per la prima volta ho un vestito bellissimo. Finalmente la signora Jones mi ha fatto un'opera d'arte, vedete? Scusa Sydney, qui nella scaletta del programma non c'è indicato il tuo numero di questa sera, che numero fai? Ma non ero molto sicura del numero, veramente aspettavo il vestito per decidere e eccolo qua, eccolo, la signora Jones ha fatto un'opera d'arte. Sydney, questo vestito fa schifo, semplicemente schifo, sembri un fantino del Paglio di Siena, sembri una della contrada della giraffa, bianco e rosso. Ma che c'entra bianco e rosso, questo è un vestito bellissimo, tre mesi e finalmente me l'ha dato e non ti piace? Sono stati tre mesi buttati via, tre mesi buttati via Sydney, poi tutti questi veli, questi veli sono troppo sexy, non sono in linea con la trasmissione, guarda, ascolta me, qualsiasi numero farai questa sera, qualsiasi cosa farai, cerca almeno di toglierti il vestito. Come? Togliere il vestito? Togliere il vestito? Ma che situazione imberezzante! Il bellissimo vestito che mi ha fatto la signora Jones! E se la togliessi davvero? Ehi un momento, un momento, quando ho detto di togliersi il vestito non intendevo certo, c'è un equivoco, un increscioso equivoco, mandate a letto i bambini, mandate a letto i bambini almeno! Ehi un momento, un momento, quando ho detto di togliere il vestito non intendevo, Ehi un momento, quando ho detto di togliere il vestito non intendevo, e che si trova e il vestito non intendevo, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.